Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per trovarci al Suo cospetto, santi e immacolati nell'amore. Ci ha predestinati a essere Suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito del Suo volere, all'ode e gloria della Sua grazia, che ci ha dato nel Suo figlio di letto. In Lui abbiamo la redenzione mediante il Suo sangue, la remissione dei peccati secondo la ricchezza della Sua grazia. Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza, poiché Egli ci ha fatto conoscere il mistero del Suo volere. Il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. Nella Sua benevolenza lo aveva in Lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi. Ora si compie il disegno del Padre, fare di Cristo il cuore del mondo.